ecco ecco un attimo solo ho fatto ok mi chiamo manuela darme sono di roma nata e cresciuta a roma e l'agenzia che mi rappresenta è la matrix management questi sono i miei profili 1 e 22 e alle mani che vi dico da quando mi sono laureata in economia e commercio ho sempre assunto ruoli di responsabilità non è che non mi vada di farlo per carità lo faccio lo farò perché sono seria responsabile coerente ma io voglio solo recitare lo voglio fare sempre mattina giorno notte tanto non mi stanco perché troppo bello è la cosa più bella del mondo a me piace l'amore recitare perché intanto mi piace far star bene l'altro poi se non gli piaccio ora direi che lo farò per me che vi dico sono anche sposata tre figli quindi a presto a presto a presto a presto a presto a presto no ciao arrivederci ah ma che ho detto che sto da roma vabbè che so da roma sto da roma andate a crescire a roma se vediamo l'altro